e solvere i problemi di crash su fortnite la nuova stagione ovviamente salve a tutti e ben tornati in questo nuovo tutorial su fortnite riguardo al problema di fortnite crash atena report quindi in questo caso andremo a fare delle modifiche nella sua cartella di fortnite e soprattutto la cartella di app data quindi in questo caso grazie anche all'aiuto di epic games ti ho lasciato il link in descrizione che ti porterà sulla pagina ti diamo il benvenuto nell'assistenza giocatori epic games qui puoi trovare tutti i problemi che puoi risolvere su fortnite tipo per esempio c'è il crash di fortnite quindi in questo caso andiamo un attimo nella cartella di app data se in questo caso riesce l'errore di fortnite game atena crash reporter è possibile eliminare tutte le cache e ripristinare le impostazioni di fortnite tasto windows più r per aprire la schedina esegui oppure scrivi esegui qua scrivi esegui qua qui dentro scrivi percento app data per cento facciamo ok andiamo su app data e andiamo su local se in questo caso c'è una cartella che si chiama atena tu cancelli quella cartella io l'ho cancellata poco fa quindi la cartella pesava sui 220 megabyte cancella quella cartella scendiamo fino a giù fino a trovare anche la cartella di epic games ovviamente una volta cancellata la cartella epic games dobbiamo rifare l'accesso al nostro account quindi cancelliamo la cartella di epic games assicuratevi prima di chiudere epic games epic games launcher facciamo riprova se c'è la cartella dell'easy anti cheat qua dentro cancella pure quella che qui non c'è più niente andiamo su app data roaming scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella dell'easy anti cheat easy anti cheat bk cancelliamo queste cartelle e c'è quella di epic games cancella pure l'altra cartella e se c'è anche la cartella di atena proprio atena così si chiama atena cancella pure quella cartella facciamo la stessa cosa anche lo calo vediamo se c'è la cartella dell'easy anti cheat qui non c'è niente una volta fatto apriamo un attimo il cmd prompt dei comandi esegui come amministratore mettiamo il comando sfc spazio scanno per fare un ripristino è una scansione dei file facciamo invio e aspettiamo mentre fa così la verifica all'analisi del sistema andiamo un attimo a vedere dove ha installato il tuo fortnite quindi in questo caso se ha installato il tuo fortnite su una disco o un ssd dobbiamo di frammentare il disco quindi su questo pc per esempio lo tengo su volume e questo è lm2 tasto adesso sono mostrati opzioni e proprietà questione mostre impostazioni strumenti ottimizza ottimizziamo il nostro disco uso questo e ottimizzo il mio disco ottimizzo così il mio disco fallo anche su tutte e tre se serve e fai chiudi e facciamo ok qui l'analisi ha fatto protezione sorse di windows nessuna violazione ha trovato il cmd chiudiamo un attimo qua andiamo direttamente sul nostro windows update protezione da virus e minacce scendiamo fino a giù fino a trovare impostazioni escursione aggiungi rimuovi escursione facciamo sì aggiungi un'esclusione in questo caso aggiungi la cartella di fortnite facciamo cartella eccola qua volume e scendi fino a giù fortnite e selezioni così la cartella così facendo non bloccherà i programmi che avvia fortnite chiudiamo un attimo questa schedina ritorniamo sulla pagina di supporto di fortnite come puoi vedere risoluzione dei problemi di frame rate verifica il file di gioco per verificare il file di gioco si deve fare sui tre puntini poi si va su gestisci e poi si fa verifica modalità prestazione di fortnite non fai solo scaldare il computer aggiornare i tuoi driver grafici e disabilitare sempre i programmi in background tasto destro sul logo di windows facciamo gestione attività processi in background ce ne sono 102 a me e qui puoi disattivare tasto destro sopra termina attività termina attività e termina attività e chiudi qua una volta fatto non ci resta che andare un attimo su epic games come ho detto devi rifare l'accesso una volta cancellato quelle cartelle di epic games può accedere così con il tuo indirizzo email e la password oppure qua sotto e faccio con google ed ecco il nostro epic games andiamo sulla libreria andiamo così a prendere fortnite come ho detto tre puntini vai su gestisci e fai la verifica al gioco una volta fatto non ti resta che avviare il gioco ed eccolo qua connessione in corso fortnite senza nessun problema io ho sempre tutto aggiornato faccio sempre la verifica con sfc scanno cancello quelle cartelle che non mi servono in app data faccio il ripristino le cache e la verifica dei file faccio sempre questo per non avere problemi su fortnite e fallo pure tu e per finire è possibile chiedere assistenza a quelli di epic games support basta andare sempre sul sito che ti ho lasciato in descrizione su epic games punto com help it fortnite scendiamo fino a giù fino a trovare non riesci a trovare quello che cerchi come posso cambiare il paese un account errore tutte queste cose qua vai su contattaci ed eccolo qua ho fatto alcune richieste riguardo all'isianti cheat problemi con la vpn oppure mi hanno cacciato dalla partita per sbaglio e mi hanno aiutato a risolvere questo problema vuoi chiedere assistenza a quelli di epic quindi facendo direttamente scrivi il tuo nome nome giocatore la tua email così facendo ti contatteranno per via email piattaforma dicono facoltativo però ti consiglio di mettere pc oppure playstation gioco fortnite motivo per cui ci stai contattando connessione con c'errore giocatore eccolo qua il mio problema è il crash atena report di fortnite come posso risolvere questo problema il mio problema è il crash atena report di fortnite come posso risolvere questo problema una volta fatto selezioni pure il file selezioni la foto lo screenshot che fatto su questo errore ho fatto lo screenshot della foto e la metto qua ok è andato bene inviare la richiesta per email la richiesta è stata inviata poi risponderanno entro un giorno o due giorni spero tanto in pochissime ore quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere i problemi su fortnite riguardo al crash report di atena o qualsiasi altro crash iscriviti lascia like per altri problemi ci sono altri tutorial in alto a destra commenta sotto al video noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao